Sono dati assolutamente positivi quelli presentati da Conad Adriatico e i soci nell'Assemblea di bilancio. La cooperativa infatti archivia il 2022 con un fatturato di 2.001 milioni di euro, registrando un incremento dell'8,19% rispetto al 2021, un patrimonio netto consolidato di 278,4 milioni di euro e una quota di mercato del 18,13% nel territorio di competenza. In dieci anni il fatturato della cooperativa è cresciuto del 120% a conferma del consolidamento della propria leadership e presenza sul mercato. Nel 2022 Conad Adriatico si è distinta per l'impegno per supportare i soci ad affrontare la crisi sul fronte ai costi, energie e consumi e generando oltre 84 milioni di euro di risparmio per i propri clienti, fondamentale il contributo dei prodotti e della marca del distributore. I prodotti a macchio ci lavoriamo da sempre, ci teniamo sulla qualità dei prodotti perché riteniamo che sia un elemento distintivo nei confronti della concorrenza. Ci abbiamo lavorato un po' di più lo scorso anno perché comunque abbiamo, con questa inflazione, con questo aumento dei costi, abbiamo ridotto la marginalità lunga del prodotto a macchio a favore del consumatore, tant'è che i nostri distini, se oltre 500 referenze, sono diminuiti di quasi il 18%. Il consumatore, possiamo definirlo fra virgolette, è il nostro padrone. Senza il consumatore non sapremmo che farci dei negozi, quindi il consumatore per noi è l'elemento fondamentale su cui dobbiamo rivolgere tutte le nostre attenzioni. Quindi coccolarlo quanto è possibile e cercando di offrire il meglio al minore prezzo è fondamentale. Gli investimenti proseguono ambiziosi anche nel 2023 con un importante piano di sviluppo per il quadriennio 2022-2025 da 352 milioni di euro. Sostenibilità, efficientamento, digitalizzazione e valorizzazione delle filieri locali, i principali driver delle politiche di investimento. Nel 2022, infine, sono stati devoluti 2,8 milioni di euro, iniziative di responsabilità sociale. La nostra è una cooperativa in cui i nostri soci, prima di essere commercianti, sono cittadini del territorio, fanno parte dell'integrante del tessuto sociale. Quindi l'attenzione ai bisogni del territorio ci arriva dai nostri soci. Lo scorso anno, nel 2022, abbiamo investito poco più di 2,8 milioni in attività, di aiuto, di sostegno alle comunità in cui operiamo.